Per uno che se ne va, dieci migliori si avvicinano. Quindi saluti e baci a chi ha fatto altre scelte, noi siamo la grande Lega. Da punti del segretario federale Matteo Salvini tiene per ultima la stoccata agli ormai ex leghisti che hanno lasciato il movimento ed è anche un avvertimento a chi ci sta pensando e che invece del palco ha scelto il pratone in mezzo ai militanti. In 6.000 dal Veneto, da cui sono partiti al mattino presto, 47 pullman per raggiungere la provincia bergamasca e ribadire che la Lega c'è. La Lega è garante del fatto che questo governo durerà per tutti e cinque gli anni che gli italiani ci hanno chiesto durasse, non un minuto di meno. Matteo Appontida e Giorgia Lampedusa sono la sintesi di un obiettivo comune, di un destino comune, non riusciranno a dividerci. Nessuna competizione con Meloni ma un obiettivo comune. Faremo tutto quello che è democraticamente permesso per bloccare un'invasione che rischia di essere disastrosa. Lega autonomista ma amica di Marine Le Pen, la leader nazionalista francese ospite a Pontida da dove ribadisce la sua alleanza con Salvini. Viva l'Italia! Viva la Lega! Viva il Capitano! Viva l'Europa delle Nazioni! Quando è ora dell'intervento di Luca Zaia e di srotolare la bandiera del Veneto dal palco, manca mezza giunta di Palazzo Balbi. Come annunciato, Federico Caner, Gianpaolo Bottacini, Roberto Marcato rimangono nel pratone, ma Zaia torna a ripetere che assessori in partenza dalla sua giunta non ce ne sono e va dritto su immigrazione e autonomia. Il leone è sempre più incazzato comunque. Qualcuno pensa che la Lega si faccia indicare la via. La Lega indica la via, non se la fa indicare. Ci dicevano che eravamo razzisti quando parlavamo di federalismo. Oggi parliamo di autonomia e sono tutti federalisti. Ma qualcuno lo vuole spiegare a sta gente che è l'autonomia e il federalismo? Glielo volete spiegare? Una missione affidata al Ministro per l'Autonomia Roberto Calderoli che scandisce le tappe. Io sono convinto che entro la fine del mese finiremo in commissione per l'ottobre 2023. Il provvedimento sarà in aula al Senato e questo vuol dire 2024, l'anno dell'autonomia. Autonomia